SMAWEEEVERDAY SMAWEEEVERDAY Ehm SMAWEEEVERDAY Ehm SMAWEEEVERDAY DINMI DINMI KLA Aspetta che no aspetta. Non ti sento Aspetta Ehm KLA Sì che ora ti sento KLA dimmi No, stavo dormendo, tranquilla, non mi disturbi No, 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 stai tranquillo, senza problemi Dimmi questo un po' Sì, sì, me l'aveva parlato prima del... L'ho passato per Roma, mi aveva parlato Stefano un attimo Sì, sì, mi aveva detto che lui in moto non andava Capitano che diventava Antonio, però comunque... Eh, che se potevo aiutarti, diciamo, con gli acquisti Qualche cosa, perché qua non si compra niente Sì, come si chiama l'acquisto vostro? Manco tu lo sai, mamma Ah, ti ha fatto faliso, dico, non capisco Cioè, diciamo, non ti importa, dico, no, proprio niente Però perfetto Ehm... Kijna, mi sembra che si chiamava Ma proprio tu non lo sai proprio, no No, no Perfetto Ehm... Un solo acquisto che abbiamo fatto, che amore Beh, abbiamo perché, vabbè, ti sto aiutando Poi, vabbè, siamo per gemellare Eh... La Lazio, la Lazio Un solo acquisto, sì È un po' poco, effettivamente Ti vuoi comprare? Uno che ti fa fare tanti soldi? Sei ibra, ibra non viene là Eh, ho capito, vuole andare a Milan Come dici? Sì, è vero che può fare più competizione a voi Però... Lui non lo so, c'è sta cosa O che deve andare verso Dai, non cominciamo ad offendere il vino Potevo andare pure alla Roma Volendo Dici che la Roma no? No E da noi? Soprattutto noi non ci siamo A livello... Non parlo, loro sono molto... Hanno vinto molto più di noi Però parlo del... Che lo devo fare per il Milano di Coppa Noi no Italia Voi di Champions Quindi ci sta È vero la differenza Ma come ti volevo dire a te? Ma... Aspetta un attimo Gladi, rimani in linea Te non va Un attimo, Gladi Aspetta Aspetta una... Ho capito Aspetta Non ti ha spostato Aspetta 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 Ti stai Aspetta Mach maかona Allora Ti stai Lume Mhm Mhm Sì l'avevo sentito Senti ma Molti Molti aziali Si stanno lamentando Del fatto che Andrea era un romanista Era un romanista Cioè tu vuoi un capitano? Ma anche quello ti interessa Ma anche la madosca Ma poi non ti interessa Ma poi almeno questo E poi a te della Lazio Senti ma quando a te della Lazio Non te le fota più niente E ti fota solo dei soldi Ma perché non cambi squadra? Non andare alla Roma Che penso ti odino già abbastanza Lì Questa La Zalermitana Non è la specie Ah Manco tutto questo E poi no Mi ha promosso in B Dobbiamo due A fine che la vince di più Perché L'aroma Con l'aroma Non stai a fare ancora acquisto E la 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 puoi vedere Può essere Fai acquisti meno importanti Di meno importanza Farlo di noi Questa del tempo Questa del nuovo episodio Poi dico Se ti offrono che sei Ronaldo Cos'è che? Ti guardo le ramadini Quello che sei Ne sei Per quello Adesso cosa c'è? Il tappetto La pulce Quello Il fenomeno Non è Ronaldo Quello Che stava lì In 99 Nemmeno Maradona Se hai mostrato Di Maradona Tu non conosci nient'altro Sarà Ah Sto stattamente Ho capito tutto Ho capito tutto A posto Allora Dimmi Dimmi Dico per Da l'altro O te le vai Quindi non li puoi fare Regalati Sti così razzieri Che tanto non ti vogliono Dici che ti amano Perfetto Va bene Dai Cosa fa che c'è una bella Telefonatina che andrea Va bene Molto Mi piace sapere Ci sia Bella Bella Vado a ritrovare Nella Che andrea Vado a sbloccare Va a sbloccare Questa Questo E' una bella E' una bella E' una bella E' un minuto un conto come stai come lo faccio no scusami effettivamente c'è il gioco 10.11 pronto Grazie. Alla fine Ragazzi, alla fine Che giocatori prenderà? Ha preso Kirchner, come si chiama? Ma poi? Bu La boba Io all'ultimo ti l'ho detto Però se si conviene Mi dispiace per tutti i laziali Questo video è dedicato a loro Facciamoci due di sete sola E godiamoci la vita Visto che lo titolo mi fa un acquisto buono Lazio Sul grado verde vola Lazio Tu non sarai mai sola Ora Un'aguila nel cielo Più in alto Sempre volerà Insieme a te aquiloro